Buonasera a tutti. Iniziamo, diciamo, un po' in a buona, insomma, che avranno anche una partecipazione maggiore, però una breve introduzione per presentare la serata. Noi vanno al rurale perché rappresenta un'associazione, l'associazione per chi non ci conosce, penso che più o meno ci conosciate tutti, comunque siamo un'associazione, un gruppo di amici che amiamo, chiamiamo così, amiamo la bicicletta, ci piacciono andare in bicicletta, ci piacciono i ciclisti, tutti i ciclisti, perché sapete che i ciclisti ci sono diverse categorie, sia da quelli che hanno la bicicletta in cantina e che dicono la lascio lì perché prima o poi la userò, fino a quelli che appena hanno un po' di tempo a tempo bassa, partono, fanno 100 km e la alzano su solamente al centunesimo chilometro. Ecco, noi ci collochiamo in mezzo a queste categorie, non so se più vicino ai primi o più vicino ai secondi, comunque noi siamo ciclisti che ci piace andare in bicicletta guardando il ritorno, guardando il territorio che percorriamo, i luoghi, ci interessiamo alla storia di questi luoghi e a quello che in questi luoghi succede. Ci vedete anche da chiedere per quale ragione persone che amano la bicicletta, organizzano una serata sul tema che poi sentirete e invece di parlare di freni, di ruote, dell'aio al carbonio o meno. Cioè diciamo che ci interessiamo anche di queste cose, però ci interessiamo anche di delle cose che parliamo stasera perché la bicicletta è tante cose. Per esempio se una persona chiede al sottoscritto che cos'è che senti quando vai in bicicletta la risposta che a me viene più immediata è un senso di libertà. Per me la bicicletta è essere liberi, sei all'aria aperta, con la bicicletta puoi andare in luoghi che non ti puoi permettere di andare con altri veicoli e poi dà questo senso di libertà. E la libertà è un valore ed è un valore che non è assicurato per grazia ricevuta, è un valore che ci siamo conquistati e dobbiamo far di tutto perché questo valore rimanga e il ricordo perché viviamo questo momento di libertà deve secondo me essere un patrimonio, un patrimonio di tutti. Noi viviamo in un'area storica, l'Europa che è la culla con la rivoluzione francese e sono le radici di quella che è la libertà e la democrazia che noi stiamo vivendo in questi momenti. Però diciamo che l'Europa è anche stato quell'area geografica del mondo che ha sempre fatto guerra ed è quell'area del mondo che è riuscito in 35 anni a coinvolgere il mondo intero in due guerre che hanno devastato il mondo intero. però dalle macerie di queste guerre è nata quella che è la libertà che noi stiamo vivendo, l'importanza dell'Europa che molti adesso la distrattano, è chiaro che non c'è nulla di perfetto, però sono quei valori che ci hanno permesso di vivere 70 anni senza fare una guerra. E questa è una ricchezza che dovremmo sempre tenere come grande patrimonio. Un mese fa circa, accompagnando dei ragazzi di una scuola media a fare una pedalata, ci siamo fermati davanti al cippo che ricordava la fucilazione di 33 innocenti, uccisi per rappresaglia da i nazi fascisti. E a questi giovani delle medie gli ho detto semplicemente che meritavano un minuto di silenzio e di ricordo perché comunque se questi giovani usano il telefonino, usano internet, usano questi strumenti che sono comunque strumenti di libertà, come una grazia ricevuta, devono semplicemente ricordare sempre che se lo possono fare, lo fanno grazie al sacrificio anche di quelle persone. un'altra ragione è che la bicicletta è stato anche uno strumento che i più anziani si ricordano. Durante la lotta di liberazione è stato uno strumento utilissimo, ci sono scritti libri di storia sulle partigiane, le staffette che con la bicicletta portavano gli ordini e i messaggi tra le varie compagnie di partigiani. È stato famoso anche l'esempio del campione Valtari che ha ricevuto anche l'onorificenza del giusto dei popoli che con il suo pedalare avanti e indietro facendo due o trecento anche più chilometri al giorno portava documenti che hanno permesso di salvare tanti ebrei dai campi di concentramento. E per ultimo e non per ultimo è il nome che noi portiamo, cioè noi, la nostra associazione è Montesole e il nome che portiamo non ne ho mai a caso, è certo perché vogliamo che ci sia sempre il ricordo di quello che rappresenta per la nostra terra il sacrificio del ciglio di Martavotto che si consuma a Montesole. Per cui queste sono le ragioni per cui noi crediamo che sia sempre utile in modo particolare per i giovani ricordare queste cose. Ecco, prima di dare inizio alla serata ringrazio innanzitutto quello che è il fat-topping della serata che è l'ideatore, lo seneggiatore, il regista, il narratore e Oriano Caranti. Ringraziamo anche la partecipazione del coroneone del maestro Piero Vici-Biazzi. Grazie. Un ringrazio agli attori perché così vi consideriamo. Patrizia, Marcia, Marto, e infine tre musicisti giovani che sono Leogato, Giulia e Luca. Grazie Presidente, come sempre un'introduzione efficace che ci porta all'inizio di questa La volta scorsa, l'anno scorso, c'eravamo lasciati ricordando la prima guerra mondiale con le sintesi artistiche degli impressionisti da Manet a Van Gogh a Monet a Boldini li vediamo effettivamente efficacissimi coi loro ritratti che ancora oggi andiamo a vedere così volentieri per vedere com'era quel periodo che è stato poi sintetizzato con la parola di Belle Epoque. Ricordiamo anche che Van Gogh con questo personaggio è stato estremamente sintetico ed efficace per chiarire a tutto il mondo perché era scoppiata la prima guerra mondiale al di là di quelli che potevano essere i rapporti economici tra le nazioni. La grande noia erano diventati così belli da essersi convinti di non avere più niente da scoprire. La guerra ha frattumato questo mondo letteralmente. Durante il 15-18, il 14-18 sono stati provati e sperimentati dei terribili strumenti di offesa. Per la prima volta è stato utilizzato un aeroplano per individuare qua e là anche per cominciare a bombardare. È stato inventato il gas terribile e sul gas sono morti moltissimi giovani. Questi sono dei ricordi veramente impressionanti di quel che è successo allora e sono stati in effetti la base di quello che sarebbe successo poi. La mitragliatrice in modo particolare che non solo fu inventata ma divenne immediatamente operativa in maniera tragica. siamo andati l'anno scorso nella zona della Baensizza e abbiamo capito, forse andatoci per la prima volta perché su quelle colline ben 240.000 tra giovani italiani e austriaci hanno lasciato là la loro vita. quello strumento per la prima volta compariva nella storia della guerra e laddove c'era l'abitudine di scagliare un battaglione contro l'altro, magari all'arma bianca per conquistare una vetta, bastava un nido con una mitragliatrice per decimare letteralmente interi battaglioni. È stato anche inventato in quel periodo un mostro piccolino a quel tempo che sulle pianure francesi si impattano molto presto, non fu allora molto efficace. però di fatto dava già un'idea e un'immagine di quello che sarebbe stata successivamente la guerra a lampo. Indubbiamente tutte queste armi che erano state inventate avevano subriciolato letteralmente l'animo umano. il pennello dell'artista non è più capace, dopo quello che è successo, di dipingere soltanto un volto bello. si esprime andando a scavare nell'animo delle persone per vedere cosa c'era dentro a quell'animo. l'immagine si scompone, si fraziona, diventa spigolosa. i tondi sono uno vicino all'altro in una corsa incredibile. per andare non si sa bene dove. l'immagine di una persona da Picasso viene letteralmente scavata, orribile. guarda che ti vedo dentro, guarda come sei. non sei così bella come ti avevano fatto 40 anni fa. proviamo a vederla. e poi c'è Mollici, col suo urlo terrificante, che dice svegliatevi uomini perché il mondo così non può andare avanti. e li proviamo a vedere prima e dopo la terribile cura. ci eravamo lasciati l'anno scorso dicendoci che dopo un massacro di questo genere probabilmente l'uomo avrebbe capito che i confronti dovevano essere portati tra di loro su delle basi pacifiche di confronti anche spigolosi se era necessario, ma certamente abbandonando le armi. sappiamo effettivamente come è andata a finire. e avevamo anche detto che purtroppo quell'immagine e quella speranza che speravamo usisse dalla guerra avevamo anche detto che non ci sarebbe stata se non con dei confronti sereni tra le persone e tra le nazioni. invece di questo che speravamo compaiono sulla faccia europea i massimi artisti di questa novità assoluta che sarà un ventennio e la catastrofe finale della seconda guerra. Comincia il nostro racconto dopo questa parentesi ricordando in effetti quello che è successo in Europa tutta ci lasciamo per il momento e lasciamo che le voci e la musica prendano in questo momento il sopravvento assieme alle armate tedesche che invaderanno la Russia nel 1941 dovrà andare anche il gruppo degli albini italiani nell'armata dell'Armir così erano gli accordi. l'Armir viene dislocata nella zona del caucasi abbastanza lontana dal fronte fondamentale della guerra gli italiani gli italiani non vengono accolti in maniera catastrofica in Russia riescono ad avere dei rapporti tutto sommato non del tutto costi lo storico coro leone che si avvicina ormai ai suoi 50 anni di vita diretto dal maestro Pierluigi Piazzi ci porta nelle steppe e sui monti dell'Europa orientale la prima canzone è proprio un'immagine di chi trova e che ambiente trovano i nostri alpini nella Russia di allora i Oscar la rossa Puro bianco Puro bianco Prio della tua casa Tintes santa Pico Per los ere Puro bianco Prio della tua casa E se rimate l'hai detto, e stavi lì con le toscarpe rotte, e te ballavi, te io da io ci mori, e te ballavi, allegra tutta notte, e i bagli albini, te cantava i tori. Oh 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 Grazie a tutti. 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 La mamma. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. 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 e... e... e tutti. e... 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 ... e... 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 e...